Direttamente da Brisino il post partita Gigione cosa puoi dire di questa partita? Siamo partiti male, abbiamo sofferto i primi 20 minuti poi siamo andati in vantaggio e siamo riusciti a riprenderci con il secondo tempo Taggini cosa vuole aggiungere? Siamo contenti del risultato, ci serviva per la classifica visto l'ultima partita che non è andata molto bene Per Ema Tigre da Brisino è tutto, ciao!